C'erano un po' di amici stamattina alle 10 davanti al cancello che porta alla casa di Rita Mazzone, in località Fenoso, pochi metri dopo l'aeroporto. Erano lì per sostenere la mamma di Giulia, oggi a Cagliari, per seguire la sua cura di preparazione al parto, un evento molto delicato, viste le condizioni della giovane che ormai da parecchi anni lotta contro il cancro. Rita avrebbe voluto consegnare le chiavi alla nuova proprietaria, che però non si è presentata, e così un corteo composto da responsabili dell'Ufficio Vendita Giudiziare, Polizia e Digos hanno varcato il cancello che si è chiuso subito dopo dietro loro, fuori amici e la stampa. Dopo più di un'ora Rita è ricomparsa con un'aria serena, forse ormai libera, da quel brutto pensiero che l'ha accompagnata per tanto tempo. Stamattina sono venuti tutti, tranne la proprietaria. Perché? Non lo so, io ho chiesto quando è arrivata, ma ho chiesto se c'era, perché per la procedura avrei dovuto consegnare le chiavi a lei, ma non c'era. E' quello che volevo dire appunto. Non c'era, io ho consegnato le chiavi all'IVG, hanno fatto il sopraluogo della casa, hanno verificato le cose, ho dato le chiavi e me ne sono andata. Quindi adesso è finita? Finita, sì. E l'avvocato dice che vuole fare il ricorso? Assolutamente, il percorso legale seguirà tutta la sua strada. La nostra battaglia legale continuerà. Finché avremo possibilità e fiato, anche perché l'avvocato appunto ci dice che ci sono tutte le situazioni per poter andare avanti, noi continueremo ad andare avanti legalmente.